Capì che qualunque cosa avesse detto non sarebbe servita a nulla. Flavio Osios non lo avrebbe risparmiato. L'uomo, dall'altra parte della stanza, sorrise. Molto lentamente quasi fosse un rituale da eseguire con religiosa precisione. Si avvicinò al colonnello che lo osservava immobile. Si fermò a pochi centimetri e gli puntò l'arma alla tempia. Weistaller non oppose alcuna resistenza e chiuse gli occhi, in segno di rassegnazione. Il colpo fu appena percettibile, un sibilo che durò molto meno di una frazione di secondo. Il proiettile perforò il cervello del colonnello che morì sul colpo. Osios, con estrema calma, spostò il cadavere accanto a quello della recluta e gli sistemò la pistola nella mano destra. Troppo facile. L'ennesimo scandalo a sfondo sessuale nelle file della guardia svizzera. E questa volta coinvolgeva il massimo esponente. Gli parve già di sentire le voci dei più esimi vaticanisti nei servizi televisivi della sera. L'autore dell'omicidio o suicidio sarebbe lo stesso colonnello Kurt Weistaller, da poco arrivato al vertice della guardia privata del Papa. L'uomo, 44 anni, avrebbe ucciso la recluta a Klessen per motivi passionali e poi si sarebbe tolto la vita. Si accarezzò la barba soddisfatto e uscì dalla stanza. Una folata del caldo romano lo investì in pieno. Scese la scala del Palazzo San Carlo, così vicino al cortile San Damaso, che quasi gli pareva di percepire i sussurri delle personalità in attesa del comandante della guardia svizzera per cominciare la cerimonia di giuramento. Tutti gli anni, a partire dal 1527, il 6 maggio, le nuove reclute della guardia svizzera prestano il loro giuramento. Quell'anno non accadde. 1. Gennaio. Quattro mesi prima della morte di Weistaller. L'auto era ferma, con il motore acceso, lungo il marciapiede di Piazza Castello. Nevicava. Era il 4 gennaio e Kurt Weistaller se ne stava seduto sul sedile ad attendere che dalla penombra di un porticato comparisse una figura umana. Da poco si era fatto buio e la neve, che per tutto il pomeriggio aveva risparmiato Torino, cominciava a depositarsi sulle strade e sui tetti delle case, con maggiore insistenza. Lo sportello posteriore dell'Audi si aprì ed entrò un giovane dai capelli rossi. «Queste sono le chiavi d'accesso di oggi», dichiarò senza neppure salutare. Il ragazzo mostrò a Weistaller un pezzetto di plastica nero, grande come un'unghia. Prima di porgere la mano, quello che appena due mesi dopo sarebbe divenuto il nuovo comandante della Guardia Svizzera Pontificia, osservò bene il giovane. Indossava una giacca a vento azzurra, completamente lisa sul collo e sui gomiti, e si copriva il volto con una voluminosa sciarpa a color ciliegia. Aveva i capelli corti e occhi di un azzurro chiaro che sbucavano da sopra la sciarpa. Non aveva nulla di interessante da offrire. Weistaller prese la scheda di memoria microSD, quasi facendo attenzione a non sfiorare la mano del ragazzo, e la infilò nell'apposito slot del suo fidato Next M1, lo smartphone dal quale non si separava mai. Furono necessari pochi secondi, perché ottenesse la risposta che stava cercando. Lo schermo multitouch si illuminò e comparve in automatico l'immagine di una piccola applicazione di verifica. Sembrava tutto a posto. «Aspetta qui», ordinò in un italiano dal forte accento germanico. scese dalla macchina per controllare che nessuno avesse seguito il rosso e, quasi scivolando sulla neve che aveva coperto il marciapiede, andò ad aprire il bagagliaio dell'Audi. Ne estrasse una busta di plastica, rifece il giro dell'auto e tornò a sedersi sul sedile del guidatore. «Sai qual è la cosa più importante?» chiese al giovane osservandolo dallo specchietto retrovisore. «Immagino la discrezione», rispose secco il ragazzo dai capelli rossi. Non era troppo attraente, ma sembrava sveglio. Lavorava come inserviente in una bella abitazione che si affacciava su piazza San Giovanni. Sapeva osservare e memorizzare. E quello che Weistaller aveva visto in lui lo aveva appena ripagato di due codici alfanumerici, da sedici cifre ognuno. «Ricorda che so dove trovarti». A quel punto si girò e lo guardò dritto negli occhi. Il ragazzo non sembrò per nulla intimorito e allungò la mano. Weistaller, dopo una finta esitazione, gli mise in mano la busta che aveva estratto dal bagagliaio. «Io non l'ho mai vista», confermò il giovane sorridendo, mentre controllava velocemente il contenuto della busta. Quando fu certo di avere ottenuto quello che aveva chiesto, uscì dall'auto con la stessa discrezione di quando era arrivato e sparì sotto il porticato di Piazza Castello. Weistaller indugiò ancora diversi istanti sul tema.